Lievito di speranza per la Chiesa e la società, questo sono per il Cardinale Gualtiero Bassetti i ragazzi che a migliaia hanno raggiunto Piazza San Pietro al termine del pellegrinaggio a Roma in preparazione al Sinodo dei Giovani del prossimo ottobre, giorni di cammino, di fatica e di fede. L'esperienza di questi giorni di cammino ha contribuito a farvi capire che nessuna difficoltà e nessuna paura sono insormontabile, purché non le affrontiamo da soli. Il Signore non smette di mandare il suo angelo a portare al momento giusto ciò che serve per riprendere le forze e ravvivare il coraggio. L'invito poi, ricordando la figura del profeta Elia in fuga e ospitato da una vedova, è quello di accogliere sempre e in qualunque condizione chi fugge da guerre, ditature e carestie.